Anche il settore delle attività artistiche è stato colpito dalle restrizioni imposte dall'ultimo DPCM. Teatri chiusi a partire dal 26 ottobre sino al 24 novembre. Questa è una delle disposizioni previste per fronteggiare la repentina crescita dei contagi da coronavirus senza incidere bruscamente su servizi e attività commerciali. Il teatro è un luogo sicuro perché abbiamo speso tanti soldi per i distanziamenti, perché dobbiamo avere cura anche del nostro pubblico, dobbiamo avere anche cura noi attori. Le perdite che ci sono in teatro, io dico a livello amatoriale meno, ma noi a gestire una struttura del genere si capisce quali possono essere le perdite, luce, telefono, che sono non usati però arrivano i costi anche fissi. Non ritengo intanto che fosse veramente necessario chiudere i teatri, in quanto li ritengo forse i luoghi più sicuri, che bastava applicare quelli che sono i protocolli sanitari, bastava rispettare quello che è il distanziamento, come lo si fa anche per gli altri luoghi pubblici e privati, e quindi assistere in maniera disciplinata alle rappresentazioni. Il settore teatrale, indebolito dalle limitazioni imposte dal precedente lockdown, da qualche mese tentava di risollevarsi garantendo la diffusione dell'arte nella totale sicurezza. Ma adesso tutto si complica nuovamente, a causa della nuova disposizione che ne prevede la chiusura totale. Molti teatri saranno costretti purtroppo a chiudere, e questa è una realtà veramente tragica. Non si possono, come si può, fare impresa piaprale adesso con questo nuovo decreto. Ci stiamo avvicinando a quella che è la stagione infernale. Non si possono fare neanche spettacoli all'aperto, che avrebbe un po' consentito ancora di operare. Per cui sarà sempre più difficile. Per quest'anno forse non faremo campagne abbonamenti, ma faremo, se ci daranno la possibilità, e spero di sì, perché capiranno, di fare soltanto spettacoli antidoto, con la compagnia antidoto a sbigliettamento. Così evitiamo pure il contatto con le compagnie esterne, anche perché ormai con questa restrizione neanche noi vogliamo andare fuori, neanche le compagnie esterne vogliono venire a giare. Questa è una bella precauzione, perché resteremo, diciamo, faremo un lockdown interno al teatro, e resteremo il pubblico dell'antidoto con la compagnia dell'antidoto. Questa già è una restrizione che noi cerchiamo di fare, di adottare. L'artista è colui che fa della propria passione il proprio lavoro, ponendo se stesso a servizio della collettività, e soprattutto in un periodo simile in cui ci si sente un po' smarriti, l'artista svolge un ruolo fondamentale. È fondamentale perché la gente vuole evadere anche dalla monotonia, ora di stare a casa, perciò trovare lo spazio di venire a teatro, anche per l'artista. Io lo dico scherzosamente, l'ho detto anche ai ragazzi della compagnia, mi si è bloccato il cervello. Non riesco neanche a riprendere, perché io ho 57 anni, e perciò fermarmi, è vero che a casa cerco di leggere, però io sono abituato a leggere molti copioni. In questo momento questo lockdown, questa parola così inglese, americanata, ci blocca anche a livello mentale. Perciò il teatro fa bene, sia noi artisti che al pubblico. Il teatro ha una funzione culturale, questo lo sappiamo, non c'è bisogno neanche di dilungarci. Soprattutto ha una funzione poi anche sociale, perché che cos'è? È l'aggregazione di più persone che assistono a qualcosa, a qualcosa che lega ancora di più quelli che sono i valori anche della società. L'Italia ha nel suo DNA l'arte in tutte le sue sfaccettature, come simbolo di bellezza e libertà di espressione. L'arte è salvezza, disciplina, educazione, e porvi un freno comporterà un danno non solo economico, ma soprattutto psicologico, in una società che tenta costantemente di risollevarsi dal precedente lockdown. E' salvezza, disciplina, educazione,